Ed eccoci qui oggi con la Torpado Xanto. Xanto deriva dalla mitologia greca, era un cavallo immortale nato dal vento dell'Ovest Zephyro e dall'Arpia Podarce. Xanto aveva il dono della parola, concessa lì da era. Oggi sarà il vostro automedonte, colui che guidava Xanto. Dopo questa breve illustrazione mitologica storica, eccoci appunto con la Torpado Xanto, una e-bike full suspension, 150 mm all'anteriore e al posteriore. Di cosa si tratta? Si tratta di una mullet. Cos'è una mullet? Una mullet è una bici con un formato ruota differente dall'anteriore al posteriore. Infatti abbiamo una 27,5 al posteriore e una 29 pollici all'anteriore. Questo mix di formato sta prendendo piede nell'ambito mountain bike, anche grazie al fatto che l'UCI ha reputato idonee questo tipo di bici a correre in Coppa del Mondo. Quindi potremo trovare in futuro dei professionisti che correranno in Coppa del Mondo con due formati ruoto differenti. Quali sono le caratteristiche di questa Torpado? Abbiamo una motorizzazione Bafang Max Drive System, infatti è un sistema meno usuale rispetto al solito, non troviamo i classici Bosch, Yamaha e via dicendo, ma una nuova concezione di motore che arriva dall'Oriente. Ne sentiremo parlare perché ha molti pregi e il costo è limitato. Monitor con i dati di cui abbiamo bisogno, dati basilari. Non troviamo una configurazione un po' più diciamo tecnologica con app, con bluetooth, ma troviamo velocità, distanza, livello di assistenza e batteria. Comunque tutte le cose di cui abbiamo bisogno in un giro in mountain bike. Si possono cambiare i livelli di assistenza? Possiamo scegliere tra 3, 5 e ben 9 livelli di assistenza. Naturalmente la scelta più giusta, a mio parere, sono i classici 5 livelli di assistenza a cui si aggiunge sempre la funzionalità Walk. Batteria da 720 Watt per ora, quindi grande autonomia con celle Samsung. Motore, come abbiamo detto, Bafang con classico wattaggio di 250 e ben 80 Nm di coppia. Troviamo ben due sensori, cioè il sensore di velocità e un sensore di coppia. E questi due dati vengono trasmessi alla centralina. Con questo incrocio di dati ci permette indirettamente noi come utenti di avere un motore fluido e ben lineare. Come abbiamo visto con 29 pollici, con 27,5, la tempistica per presentare una novità in generale è importante. Se qualche anno fa qualcuno si fosse permesso, ed è successo, di presentare un mix ruota così, sarebbe stato visto come un pazzo. Mentre adesso si viene visti come degli innovatori. Ora è il momento delle mallet, i tempi sono maturi e sicuramente ne sentiremo parlare in futuro. La Xanto viene proposta in tre taglie, S e ML. Troviamo sia il modello da 150, questo in test, sia il modello da 120 mm. Questa 150 è proposta in due montaggi differenti e la bici in test, di cui trovate il link in descrizione con tutte le caratteristiche al montaggio e i prezzi, viene 4.130 euro. La geometria di questa Torpado non è eccessivamente aggressiva, abbiamo 150 mm, angolo sterzo di 66 gradi. Il carro posteriore è abbastanza lungo, un bel 470 mm, che comunque abbinato ad un angolo sterzo non troppo aperto, tiene abbastanza contenuto il valore dell'interasse totale. Una bici che a vedere bene queste caratteristiche si presenta come ottima per un uso trail al mountain con una puntatina sull'enduro. Ma come si comporta questa Torpado Xanto? Partiamo dal motore, il motore ci ha convinti pienamente, chapeau a Bafan, quindi rapporto qualità-prezzo elevatissimo. Una silenziosità elevata che batte molti marchi blasonati, quindi uno dei suoi vantaggi è proprio la silenziosità. Ottima anche la fluidità, quindi ci dà una sensazione di pedalata assistita e non di motorino. Una cosa sempre molto apprezzata in un e-bike. Sinceramente non abbiamo trovato difetti, ci è piaciuto tanto questa motorizzazione e darà del filo da torcere a molti marchi più famosi. L'unico dubbio è l'affidabilità o meglio, non siamo riusciti a metterlo a dura prova perché ci vorrebbe un test di lunga durata, cosa che non siamo riusciti a fare perché tra neve, pioggia, temporali, è un periodo un po' così. E quindi possiamo solo confermare che nel breve periodo si è comportato greggiamente e non abbiamo avuto problemi. Le geometrie, come detto in precedenza, non troppo aggressive, ci aiutano a trovare subito il feeling. I limiti non sono troppo elevati, quindi con una posizione centrale non troppo estrema già si trova una bella fluidità di guida. Una caratteristica interessante anche per l'utente meno esperto. Da menzionare il mix di ruota 27,5 al posteriore e 29 all'anteriore che ci è piaciuto molto. Ci è piaciuto molto perché il 29 all'anteriore ci consente di superare bene gli ostacoli, il 27,5 al posteriore c'è maggiore maneggevolezza. Sembra un concetto banale, però in discesa sì, non riesco a capire perché i marchi hanno cominciato solo ora a produrre un simile formato ruota che secondo me sull'e-bike è una scelta vincente. La posizione in bici sull'Axanto è molto raccolta, quindi attenzione alla taglia. Il mio consiglio è cercare di abbassare un po' l'anteriore per cercare di tenerlo più incollato a terra nelle salite più ripide e tecniche. In salita l'Axanto va molto bene, se sei in modalità 5 va molto veloce in salita, mentre se sei in modalità 1 va un po' più piano. Ok, scusate ho visto troppi video su YouTube in questi giorni di test. A parte gli scarzi, in salita naturalmente entra in scena il motore e il Bafang è eccellente, ha una linearità spettacolare. Non vorrei espormi troppo così ma ci è piaciuto molto per la sua linearità. Manca forse un picco di potenza massimo che è leggermente inferiore ad altri motori, però ci dà una sensazione di pedalata vera e questo è molto apprezzato. Piccola nota dolente per l'Axanto, l'altezza del movimento centrale. Allora, finché siamo sui sentieri flow ci può anche stare, anzi più bassa è meglio è, molto più stabile e veloce. Il problema è quando troviamo dei tratti tecnici con molti sassi e specialmente nelle salite tecniche dove il movimento centrale è misurato in 320 mm molto basso e ci porta spesso a zappare il terreno o a picchiare dei sassi e i sassi spesso hanno la meglio. In discesa come detto l'Axanto è molto intuitiva, il suo carro è molto lungo, non la rende un mostro di agilità ma è molto stabile e ferma. È una bici confortevole, facile da guidare, il comportamento dello schermo ammortizzante la rendono molto schiacciassassi e stabile. In un'ottica non racing è una bici molto, secondo me verrà molto apprezzata, molto comfort, molta stabilità. Anche se i due formati ruota differenti portano a vari problemi in fase di forature, in fase dobbiamo avere in sostanza copertoni, camera d'aria nei due formati. Questa forse è un po' la nota dolente di un simile format. Sarebbe una bella cosa fare delle camera d'aria a 28 un terzo in modo che possiamo farle un po' combaciare in tutti i due formati ruota. Sì sto scherzando, sì più o meno, sto parlando seriamente anche un po' scherzando. Ah dimenticavo, freni Formula Cura, la loro potenza disarmante, ben si adattano al mondo e-bike. Il mondo e-bike ha maggiori pesi, quindi maggiore richiesta di frenata e i freni Formula Cura sono stati super apprezzati. Segni particolari, sicuramente la motorizzazione Bafang Max Drive, non certo usuale e vista in molte bici, ma una piacevole sorpresa per la sua silenziosità e fluidità. Pregi e difetti, pregi di silenziosità e linearità del sistema Bafang. Alto pregio, sicuramente una bici equilibrata, quindi geometrie funzionali che si adattano anche a chi non è pienamente esperto. Difetti, difetti abbiamo trovato l'altezza del movimento centrale, molto bassa. Ci vorrebbe un qualcosina in più per permetterci di passare agevolmente i tratti più tecnici senza andare a colpire il terreno. Verdetto finale, e-bike equilibrata. Un e-bike che risulta appunto equilibrata e confortevole. Ben si adatta a tutti quegli utenti che cercano una bici comoda, stabile, non troppo estrema. Ottime notizie dal punto di vista della motorizzazione, una piacevole sorpresa. Motore Bafang lineare, silenzioso. Peccato come detto per l'altezza del movimento centrale, ma risulta comunque un prodotto ben godibile. Quindi bel lavoro Torpado, continuate a seguirci. Se vi è piaciuto il test lasciate un like e ci vediamo alla prossima test. Alla prossima ragazzi, ciao! Alla prossima ragazzi, ciao!